e devo ancora farlo partire cazzo gli ho detto di partire lasciamo partire le rene 10 secondi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 partita oh dai Alex ok ok ah Grazie. 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 Pensione. Pensione. O co? Hojdi. Grazie. 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 ok come e voi ziri come e voi ziri hai cambiato idea ok Oh, da dove arrivano? La prima è in prova, io non ho visto niente. E tu lo prendi? Mi sa che eras a girare. Ecco il parso video poi. For me. Tanto ma io ho bisogno. Non mi capisco. Non mi capisco più a bici. Ecco la grande atleta che va a completare la sua gara per la non competitiva. Vi ricordo quella che è la classifica squadra dopo le prime tre tappe dove ci sono in testa per il momento Crava Bike con 60 partecipazioni. Poi la Varnizio Cycling Team con 53 e a pari merito al terzo posto Delizia Bike Veloci Raptor. Quarta posizione, anzi quinto in questo caso visto che c'è un pari merito al terzo posto per il zero asfalto. Insomma mi sono perso. I nostri sponsor. Winner superiore di Gatti e Fitogarda. Fitogarda integratore di tutto quello che è del Buon Cosme si. È un Geo. È un non competitivo. Tendo sempre... Antatecnologia tenendo sempre... Fatti ha detto. Ha concluso la sua non competitiva. Quella che è la naturalità e la salute. Delle migliori farmacie e parafarmacie. Mi sono piantato qua. Sulla sabbia eh ho visto. Ti avevo raggiunto io poi. Dopo mi sono piantato anche io. Ho messo il rapporto corto e ho detto vado dentro in bomba. Cazzo. Che fa dire? Non è entrato il rapporto corto no? Iniziano ad arrivare i runners a preparare. Si. No si può arrivare anche la base. Pronto sotto il ventone. Adesso si appena la macchina da infilare. Non viene. Tocca caricare la bicicletta verso. Perché sennò si andava da là con la bicicletta. E dopo si è lontano. Si. Se non lo è lontano. Accomndio. A corrente numero uno. Di primo, di primo, di primo. Io poi. Comunque ho capito che con la pressione bassa te va per i cazzo tuoi. Sul sterrato va da dio. Ma su asfalto te va a coparti io. Lo sperimentate. Perchè te freni di poi la va dove cazzo che la voleva. poi che ci facciamo un giro senza vestiti perché andare là con i vestiti è una rotta del coglione allora io direi andiamoci a fare un giretto fin là se c'è una roma gli diamo una lavata e torniamo qua ma qualche locale aperto c'è oggi io come abbiamo detto in macchina ho cominciato a rodare da 6 km in poi si dopo comincia a non sentire più la fatica e ti respira in massa forte no adesso potrei tornare a casa anche